La casa per appuntamenti è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri della compagnia diecinale in questo signorile residence sul lungomare Dieci Castello. Quattro avvenenti ragazze, tutte di nazionalità colombiana, poco più che ventenni, eccetto la presunta tenutaria che di anni ne ha 33, sono state sorprese all'interno di questo appartamento del complesso Le Palme, sul lungomare castellese, a due passi dall'hotel Sheraton. La donna di 33 anni è stata denunciata per agevolazione e favoreggiamento della prostituzione. 50 euro a prestazione, hanno accertato gli investigatori. Solo per amici e amici degli amici, un giro che si allargava a Macchiadolio con il vecchio sistema del passaparola, nessun sito internet per promuovere l'attività di prostituzione. Il quartetto di presunte prostitute operava convinto di non destare sospetti, lontano da occhi indiscreti, ma non dei condomini che da settimane lamentavano il via vai di persone strane al complesso residenziale, specie la notte quando l'appartamento si animava di luci colorate e musica. Un giro di clienti affezionati e nuovi potenziali frequentatori che addirittura si perdevano le dedole viuzze dell'elegante residenza e suonavano il citofono degli ignari residenti alla ricerca di prestazioni sessuali. Erano praticamente diventati l'incubo notturno delle famiglie del complesso Le Palme. Qualcuno tra i proprietari delle ville infastidito da grandi rivieni di uomini si è fatto montare telecamere di controllo per evitare visite indesiderate. Soprattutto la notte ci ha confidato una residente che ci ha chiesto di non essere ripresa in viso per timore di ritorsioni. Al momento non è chiaro se le quattro ragazze potevano contare sulla protezione di amicizie importanti nel mondo della malavita locale oppure si operavano in piena autonomia. Le indagini sono scattate a seguito delle decine di segnalazioni anonime giunte a 112 per denunciare la presenza delle quattro ragazze del numero considerevole di clienti che per tutta l'estate e specie durante la notte animavano il complesso Le Palme. La sera gli spazi comuni erano interdetti a famiglie e bambini spiega questa anziana signora. C'era molto movimento. Mia figlia le ha viste. Infatti aveva paura a far uscire i bambini nel complesso perché sa come con l'ambiente un po' di queste donne era pericoloso per i bambini, aveva paura.